Buonasera e bentrovati. Ho sentito fortissimamente il bisogno di dedicare questa meditazione a noi stessi e supportare noi stessi e supportare la via al nuovo. E proprio in questi giorni iniziano quelle che sono le celebrazioni, dieci giorni di celebrazioni su quella che è la madre divina, cultura indiana. Quindi è un momento che non è percepito solo da me ma che diciamo così, quello che ho sentito si armonizza anche con quello che sta accadendo in questo momento sulla Terra. La Terra in questo momento sta vivendo un grandissimo passaggio, ricordiamoci che siamo nell'anno della fine e del nuovo inizio, il 2020 non si è ancora concluso, siamo in un corridoio importante di lunazioni che si concluderanno a dicembre, che innescheranno un grande passaggio, un grande cambiamento e anche quello che sta accadendo invece di vederlo come un momento difficile, che capisco possa essere percepito da tutti voi come un momento difficile, però cominciamo a guardarlo da un altro punto di vista e vederlo da parte del grande disegno dell'esistenza. Il 20 è la conclusione ma è anche la gestazione per un nuovo inizio. Ecco perché ho anche deciso di, ho sentito il bisogno di fare una meditazione che coinvolgesse, supportasse noi stessi, supportasse tutta la Terra in questo grande, grandissimo cambiamento che ci ha richiesto. La Madre Terra è la nostra madre, rappresenta la prosperità e quindi è un rapporto profondo, una nuova relazione che noi stiamo iniziando ad instaurare con noi stessi, con la Terra e con il nostro ruolo sulla Terra. Quindi dobbiamo riconsiderare il nostro ruolo, riconsiderare il nostro compito. È importante attraverso anche questa meditazione che faremo insieme, riallinearci alla Terra, riallinearci a quello che sta accadendo e chiedere proprio anche alla grande vita il supporto per questo grande passaggio di coscienza che viene tutti chiesto. E io l'invito a lasciare andare il passato, ad aprirsi a nuove modalità, nuove possibilità di relazione con noi stessi, con la nostra vita e con tutto quello che ci circonda. Perché il passaggio grande verso l'Homo Luminus, cioè la nuova umanità, è un passaggio che sta veramente accadendo e che dobbiamo decidere consapevolmente di vivere, qualcosa che possiamo solo noi scegliere di voler fare. Chi di voi ha la quintessenza, so che di solito non utilizzo niente, ma chi ne ha, chi non ha nessun problema, può darsene tre gocce sul polpo su sinistro. Le quintessenze nel sistema Rosoma lavorano con il nostro campo mentale e quindi aiutano a portare una nuova energia. Qualcuno mi sta chiedendo se è normale sentire rabbia. Certo è normale, soprattutto in questi giorni perché ricordatevi che abbiamo questa fortissima posizione tra Marte e la Luna. Marte è la rabbia, ma la rabbia è anche il risveglio. La rabbia è nei colori rosso. Chiediamoci perché siamo arrabbiati, che cosa veramente facciamo fatica ad accettare e non vogliamo vedere. Se avete le quintessenze del Santo Grazie, le pomande sono una cosa diversa. Le pomande rafforzano il campo energetico, le quintessenze invece lavorano sul campo dentale. Datevene un paio, tre gocce sul polso e apriamo insieme e offriamo l'energia, questa energia al mondo. Fuori dalla mano sinistra e intorno alla terra. Immaginiamo questa energia andare tutto fuori al mondo. Offriamola proprio al mondo. Immaginiamo proprio di offrirla al cielo, è un'energia verde-oliva. Il verde-oliva è, ho scelto questa quintessenza perché l'oliva è il ponte, il ponte tra un mondo e un altro, è un lasciare andare. Ok? Apriamo, offriamo dalle nostre mani. Immaginiamo questa energia verde-oliva chiaro uscire dalle nostre mani e andare verso l'alto. E sentiamo mentre abbiamo le mani verso l'alto che altre mani toccano le nostre dita. Sentiamo. E poi incrociamo i polsi sui punti dei chakra. Incominciamo sulla corona, come sto facendo io, vedete? Sul terzo occhio, sulla gola e sul cuore. E ci fermiamo un istante sul cuore. E mentre siamo fermi con i polsi incrociati sul cuore, accogliamo con umiltà, ci apriamo con umiltà alla grande energia universale, la grande energia cosmica. Facciamo un respiro profondo, lasciando andare. e poi passiamo sul terzo chakra, che voi non vedete, ma visualizzate. Con l'occhio della vostra mente, sul secondo, sul primo e poi offriamo questa energia alla terra. creiamo questo grande ponte, il santo graal e il calice, la cui simbolicamente ha bevuto Gesù nell'ultima cena. Quindi significa la totale ricettività a noi stessi e alla nostra anima, e poi tenendo le mani, adesso ve lo mostro in alto, con un movimento circolare immaginiamo dall'esterno di portare dentro questa energia su, 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 tutti i chakra, la rioffriamo al mondo e poi inspiriamo tre volte. Bene. E poi ci sistemiamo dovunque sentiate di essere a vostro agio, su una sedia, su una poltrona, sono sdraiati sul letto. La cosa importantissima è che vi ricordiate di non incrociare le gambe e poi cominciamo a inspirare ed espirare questo colore verde oliva, chiaro. Un colore verde, chiaro, simile all'acqua del mare quando siete vicino alla riva. Lasciate che i vostri occhi si chiudano da soli, non deve avvenire naturalmente. Ispiro ed espiro. E se riuscite, ispirate ed espirate nel naso. Come vi dico sempre, il naso è molto importante perché è collegato alle due nadi principali, i de pingala, che nel loro intrecciarsi creano i sette chakra. inspiro ed espiro. Immaginate che inspirando questa energia entri nel chakra del cuore, nel mezzo del vostro petto e nell'espirazione dal centro del petto inizia a diffondersi. Inspiro ed espiro all'esterno. Di nuovo inspiro nel chakra del cuore ed espiro diffondendone questa energia all'ina. Inspiro ed espiro. Adesso passiamo al terzo chakra, la zona del stomaco inspiro questa energia oliva e la espiro diffondendola. Inspiro ed espiro. Poi andiamo al secondo chakra nella zona dei genitali. Inspiro ed espiro ed espiro lasciando andare ad ogni espirazione. Inspiro questa energia verde oliva ed espiro. ancora una volta inspiro nel secondo chakra ed espiro. Adesso andiamo nel primo chakra portando l'ispirazione verde oliva nel primo chakra. inspiro ed espiro ed espiro ed espiro ed espiro ed espiro. ancora l'ultimo ed espiro. Bravissime, adesso sentiamo di essere seduti dai api proprio nel punto in cui siamo sul pianeta Terra, in questa stanza, ognuno nella propria stanza. In questo luogo, che è la casa dove siete, o qualunque sia il luogo in cui siete, nella città, nel paese. Inspiriamo ed espiriamo prendendo consapevolezza del luogo in cui siamo sulla Terra, poi la città e poi la nazione. E dalla nazione prendiamo atto di dove siamo sulla Terra. Questo piccolo punto di luce su cui ognuno di noi si trova qui sulla Terra. Che sia l'Italia, che sia la Francia, che sia la Grecia, che siano gli Stati Uniti. Che sia la Francia, che sia la Francia, che sia la Francia, che sia la Francia. Che sia qualunque altro luogo. Londra. Inspiriamo ed espiriamo prendendo consapevolezza del luogo in cui siamo. in relazione alla Terra, in relazione al mondo. Bravissimi. E poi ora visualizziamo dove noi siamo sulla Terra, questa pianeta che in realtà è la nostra grande madre. Quindi visualizziamoci proprio seduti, sdraiati, nelle braccia di questo pianeta che è la nostra grande madre. Bravissimi. Bravissimi. Vedetevi ognuno di voi su questo pianeta azzurro, meraviglioso. Un po' come il paradiso terrestre. Quindi siamo seduti, ognuno di noi, su questo pianeta. E cominciamo a sentire il suo nutrimento, il suo amore, la sua forza. E cominciamo a salire piano piano dalla base della nostra spina dorsale, il nostro primo chakra, su lungo il nostro corpo, la nostra spina dorsale. Ho cominciato a sentire, vero? Bravissimi. Siamo nelle braccia della grande madre. Terra è un essere, come lo sono tutti gli altri pianeti, l'universo, il nostro sistema solare. Cominciate a sentire il suo supporto nel vostro corpo. Salire lungo il vostro corpo. E mentre questo accade, cominciamo a visualizzare dei meravigliosi raggi di luce che connettono noi, noi che siamo qui nella meditazione, ma anche tutto il pianeta. Non ci conosciamo, ma non importa. Da noi si dipartono tanti raggi di luce. A creare una griglia meravigliosa intorno al pianeta. Ecco. E la terra nutre questa griglia. E man mano che la creiamo, questa griglia si rafforza sempre di più. Cominciamo a sentire l'amore che attraverso la terra giunge a noi. Sentite l'amore di una madre sopportare ognuno di voi. in quello che siete. In quello che siete destinati ad essere. in quello che è la terra. In quello che è destinato ad essere. Piano piano queste braccia. Condizioni di luce si creano e si infettiscono sempre di più. La terra ha il suo progetto. E noi siamo parte del suo progetto. Noi come umanità ma ognuno di noi. Sentite forte questo nutrimento salire e nutrirvi. Salire dalla spina dorsale. Ecco sentite. Piano piano. Bravissimi. Lasciamo che si diffonda. E adesso dall'alto giunge l'energia del sole. che passa e tocca anche l'energia della luna che ruota intorno a noi. Sentiamo di ricevere questo grande nutrimento. non solo dalla terra ma anche dal sole. Perfetto. Vedete che la luce tocchi ed entri in voi. Soprattutto dalla cima della testa. Dal punto in cui noi riceviamo l'energia cosmica. Ma anche i raggi che toccano la nostra pelle. Anche se non li vediamo. Anche se non sono fisicamente visibili. Il sole nutre costantemente noi stessi. Perfetto. 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 Sopretto. Perfetto. Perfetto. Ah. Sentiamo che dal sole che dà la vita. Nutre. giunge l'energia di supporto al nostro progetto. A chi siamo? Lasciamoci andare come quando prendiamo l'abbronzatura, ci siamo sotto il sole caldo, a ricevere questa energia di grande nutrimento. Inspiro ed espiro. Il sole supporta il mio progetto. E la terra mi dà l'energia per manifestarlo. A me, a ciò che è intorno a me, all'umanità e alla terra stessa. Ricevo, sentite, e diffondo. Siamo tutti parti, parte del grande progetto di trasformazione. Sentiamo questa energia nelle nostre cellule. Sentiamo questa energia diffondersi nella nostra vita. Sentiamo rafforzare il nostro sistema immunitario. Sentiamo rafforzarci nella nostra forza e nella nostra capacità di essere ciò che siamo destinati ad essere. Piano piano ricevete. Ecco, sentite? Sentite, sentite proprio lasciare andare ogni tensione, ogni timore. Bravissime. Sentite, bravissimi, sentite. Ah, arriva. Di nuovo arriva. In noi c'è il tutto. Sentite anche giungere a voi l'energia di tutti i pianeti del sistema solare. Ognuno di loro è un essere che supporta una qualità in noi. Ispiro. Ed espiro. Siamo esseri vibranti adesso. Viviamo con la luce della terra e con la luce del sistema solare. Ispiro. Sigh. Spirito. Sentite, eh? Con la luce del cosmo, perfetto. Con la luce dell'esistenza. piano piano il nostro corpo sta diventando si sta caricando di luce e attraverso questa rete di luce che abbiamo visualizzato prima sta supportando tutti noi ci stiamo scambiandoci energia e nello stesso tempo stiamo supportando tutto il pianeta, tutta l'umanità sentiamo questo grande nutrimento e lasciamo andare lasciamoci andare bravi bravissimi non succede assolutamente nulla se sentite qualche piccola scossettina attraverso il corpo energia sentite che sta cominciando a diffondersi tutto l'essere quindi potrebbe accadere che sentite tutto il vostro corpo iniziare a vibrare lasciate lasciate come quando si carica una pila una batteria bravissimi mio corpo diventa mio corpo diventa una vibrazione di luce che è collegata che è collegata a questa armeno enorme griglia che abbraccia la terra di cui tutti siamo parte vero è molto bella adesso siamo appena abbiamo finito di caricarci daremo una noi energia piano piano siamo quasi nutriti terra nel mezzo e noi siamo parte di questo grande campo che viene caricato da lei dal sole dai pianeti meraviglioso fra poco invertiamo la corrente ma non in per ridare per condividere adesso cominciamo noi a brillare ed emaniamo noi luce nutriamo la terra e si innesca questo processo di nutrimento reciproco rimaniamo luce e diffondiamo tutta questa luce a questa grandissima rete di cui noi siamo parte che abbraccia tutto il pianeta anche noi siamo caricati per emanare energia e ognuno di noi ognuna delle nostre vite emana energia per la trasformazione nel supporto del pianeta della grande cambio di vita di tutto di cui siamo parte ecco sentite siamo fluidi siamo fluidi lasciamo che passi questa grande corrente tra di noi bravissimi anche se viene un po' di tensione viene trasmutata attraverso il nostro essere inspira inspiriamo ed espiriamo bravissimi e adesso giunge a noi questa corrente si trasforma in amore eccola che arriva amore che passa attraverso di noi amore che passa attraverso questa griglia amore che passa attraversa e nutre il pianeta e l'umanità in questo grande momento di difficoltà e di trasformazione eccolo sentite bravissimi sentite se vi viene quasi freddo e normale e luce che va vibrando e che sta girando sentite che questa grandissima energia dell'amore e dell'esistenza si passi attraverso ogni vostra cellula a lasciare andare, a cambiare, a ristrutturare tutta la nostra esistenza bravissimi adesso questa grande fascia di luce rosa avvolge il pianeta piano piano lo avvolge tutto questa fascia di luce rosa che è l'amore, che è la protezione, che è la cura bravissimi è normale che abbiate molto freddo eh o freddo l'energia che sta girando e ogni ispirazione lasciare andare e aiutare la terra a lasciare andare ogni tensione e ogni stress lasciare andare le paure lasciare andare quello che ci preoccupa noi siamo uno ok l'espirazione ispiro ed espiro ed espiro ed espiro e mi affido a questa grande onda di amore e di supporto ognuno di noi che l'esistenza ci sta portando e nell'amore c'è anche la pace la serenità quello che sta accadendo e anche la guida alla trasformazione bravissimi 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 accogliamo il momento, accogliamo quello che accade, lasciamoci guidare l'espirazione diventiamo sempre di più uno strumento di un grande passaggio ogni ispirazione è una fluire sempre di più con la vita piano piano ecco stiamo allineando al tutto progressivamente sentite ad essere semplicemente essere ciò che siete destinati ad essere che la terra è destinata ad essere supportare le piante, gli animali, i minerali, tutto ciò che è ecco bravissimi permettete di sentire il supporto a ciò che è destinato ad essere per ognuno di noi dall'anima e riceviamo questo grande supporto e questa grande guida bravissimi bravissimi vi tornate consapevoli piano piano del vostro corpo e dove siete sentite sentitevi rafforzati e piano piano aprite gli occhi e tornate qua rimanete sempre nella consapevolezza la cosa importante è che noi acquisiamo la consapevolezza manteniamo la consapevolezza che non c'è separazione tutto è parte dello stesso identica realtà non c'è separazione non c'è separazione perfetto come è stato fate tutti pian pianino tornando ecco ecco state tornando qui grazie a voi per questo momento di condivisione insieme grazie a voi un'immensa meravigliosa energia siamo parte di un grande passaggio che sta accadendo siamo tutti parte dello stesso progetto ed è molto importante in questo momento ricordarci della nostra grande unità ma anche ricordarci di quanto noi è importante in questo progetto vi consiglio una cosa bevete molto tra stasera e domani e sentirete l'amore accadere tra di voi stanotte quindi vedrete gli effetti di questa meditazione se sentite ancora freddo il freddo è normale perché abbiamo creato un movimento di energia e stiamo rilasciando quindi anche il caldo è normale quindi lasciate che avvenga questo certo che la potete rifare anche nei prossimi giorni sono stata molto contenta di avervi con me perché è una la nuova terra nasce da un lavoro insieme dal fatto che diciamo siamo tutti fratelli a livello d'anima e dobbiamo lavorare per questo grande cambiamento insieme e possiamo farlo e possiamo farcela un abbraccio grande buona serata bene 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 bene